Ok, ben arrivato, ben arrivata in questa nuova puntata di Psicologia Senza Poesia. Ho pensato di fare una specie di nuovo format, non sarà un vero e proprio format, anche perché siamo sempre sul divano, però ho pensato di parlare anche di qualcos'altro, ma non parleremo veramente di qualcos'altro, parliamo sempre delle stesse cose, perché alla fine tutto si riconduce a poi essere approfondito dalla Psicologia. Ho pensato di parlare di credenze condivise e ben strutturate, perché alla fine il concetto di credenza è a fondamento della Psicologia Cognitiva e ho pensato di cominciare a parlare ogni tanto, non sempre, non d'abituato, di quei sistemi di credenze, ovvero di quell'insieme di informazioni molto strutturate, lineari, ma non necessariamente vere, che in qualche modo influenzano le nostre condotte, i nostri comportamenti, perché completano la nostra visione che abbiamo del mondo, dell'universo e della nostra vita, quelle che in poche parole ci dicono perché esiste tutto e perché esistiamo noi. E tu dirai, le religioni, eh, sì, praticamente sì, però se ti ricordi c'è già un video sulle religioni, in quel video lì ci siamo raccontati che anche i sistemi politici sono di fatto sistemi religiosi, ma questo è un altro discorso, vatti a vedere la puntata. Oggi parleremo di, quindi, per cominciare, di Scientology, o come diciamo all'italiano, di Scientology. Aspè, sono serio, non so da dove cominciare, intanto sigla, che ci penso. Ok, parliamo di Scientology. E da cosa partiamo, da chi partiamo? Potremmo partire da Tom Cruise e John Travolta. Sono le persone che l'hanno fatta conoscere anche a noi, magari se non fosse per loro. Nessuno oggi, magari in Italia, per me, ne avrebbe mai sentito parlare, ma quando compaiono questi personaggi qui, magari vengono accostati a Scientology. E quindi tutti noi, magari per una volta ci siamo chiesti, ma che è? Così è stato anche per me. Però non dobbiamo partire da quelli lì, quelli lì forse sono immagini promotori, e quelli lì, magari fanno il marketing io, e poi sono finiti i soldi per appartenere a Scientology. Qualche parte, mi sembra di aver capito che bisogna essere miliardari, anche perché a un certo punto spendi un bel po' di soldi, se vuoi essere, se vuoi raggiungere più alti livelli di consapevolezza e capire veramente tutto. Ma io non ce li ho, quindi ho speso 20 euro, e mi sono comprato questo libro qua. In questo libro qui però è praticamente la Bibbia, quindi se ti va intanto metti un like, sostienimi, vieni mi incontro, questo mi sono potuto permettere magari qualche informazione su internet. Partiamo al presupposto appunto però che Scientology l'ha inventata questo tizio qui, o meglio Abbott, ma non è che l'ha inventata, l'ha capito, l'ha scoperto, è stato illuminato, perché giustamente non è che è Dio, o meglio forse poi ci è diventato Dio, poi ne parliamo, però questo signore qui è uno degli esseri umani più forti e più importanti vissuti su questo pianeta, tipo i junkie giunglo della Corea. Cioè questo signore qui ha fatto un sacco di cose assurde fin da quando era piccolo, praticamente era un predestinato addirittura. È stato un eroe di guerra, senza essere mai andato in guerra, poi ha il record di ogni cosa, cercatelo un po' su internet, non ha fatto miracoli, ma ha fatto di più, ad esempio non è neanche morto, ma adesso è praticamente, sta gestendo tutto l'universo. Prima di cominciare davvero, devo dirti però una cosa importantissima, cioè devo metterti in guardia, perché quello che sto per dirti, se non sei pronto a sentirtelo dire, può essere davvero pericoloso. Da quello che ho capito, queste informazioni qui potrebbero fare ammalare le persone, se non ucciderle, perché noi non siamo pronti a sapere la verità, ma per sapere la verità dobbiamo essere prima preparati. Io ho rischiato tantissimo e non so se mi verrà qualcosa fra qualche giorno, quindi io ti metto in guardia, se vai avanti, sei tu che l'hai deciso, io declino ogni responsabilità. Anche perché Abbard non è stato mitizzato, cioè se noi intendiamo per mitizzazione, quel processo che sopravvaluta l'importanza degli eventi storici, o di persone, o dell'importanza delle persone che hanno abitato questo pianeta, Abbard non è stato mitizzato, anzi, ci sarebbe tanto da dire, ma nessuno di noi è pronto ancora a saperlo. Però partiamo da questo. Abbard è stato uno scrittore importantissimo, ha scritto praticamente di tutto e di più nel filone della bit, del filone fantascientifico americano. E scrivendo queste cose, a un certo punto ha scoperto tante altre cose, praticamente, io credo che abbia capito che quello che era nella sua mente, quelle che erano le sue fantasie, poi ha capito che non erano solo fantasie, ma era la realtà, era la verità. E quindi piano piano lui non lo voleva, però piano piano ha dovuto accettare il fatto che quello che lui stava capendo era, in realtà, una nuova religione, anche perché queste cose qui soddisfacevano implicitamente alcuni bisogni, ovvero facevano stare le persone bene, davano un senso, e soprattutto potevano riorganizzare al meglio le nostre società, gestendo poteri, gerarchie e risorse. Ma questo lui non lo voleva. Purtroppo si è ritrovato in questa cosa qui e ha dovuto raccontarcelo. Per il nostro bene, finalmente. Anche perché lui voleva diventare un ingegnere, era iscritto all'università, però non è diventato un ingegnere, perché a un certo punto ha scoperto che faceva stare bene le persone, e lui voleva fare lo scienziato, tant'è che all'inizio scientologi, infatti si chiama proprio così, la scienza delle scienze, scientologi, la scienza delle scienze. Lui aveva capito questa cosa qui che doveva essere la totalità delle scienze, partendo da un modello che doveva curare le persone, perché aveva scoperto pure una cosa assurda, che il 70% delle nostre malattie non hanno un'origine organica, proprio dice il 70%, non hanno un'origine organica, ma psicosomatica, quindi sono un prodotto della nostra mente. Ma anche la miopia, se noi non ci vediamo bene, è perché non è che abbiamo un problema alla vista, è che ci sono alcune cose dentro di noi, che si chiamano Engram, ma che in qualche modo compromettono il funzionamento del nostro corpo. Poi ha scoperto che queste cose erano addirittura alieni, ma ora ci arriviamo. Praticamente sono queste cose che compromettono il funzionamento del nostro corpo. E quindi a un certo punto ha scoperto pure il complotto degli ottici. Te lo faccio, non mi credi, te lo faccio leggere un secondo solo. È scritto qui. Cioè, qui c'è scritto tutto. Un secondo solo, che vediamo se trovo questa pagina qui. Un attimo di pazienza. Però, stiamo andando avanti. Prima ti devo dire altre cose, ma nel frattempo te lo faccio vedere. Una delle cose che ci eventualmente accadono a un clear, è che se la sua vista non era buona quando era berrato, generalmente migliorerà in modo marcato, con un po' di attenzione, e riacquisterà col tempo la percezione ottimale. Capito? Ora, questa cosa che anche è la miopia, ad esempio, è un problema psicosomatico. Ce l'avevano pure quelli che hanno inventato la PNL. Infatti, con la PNL, i Scientologi, ha molte cose in comune, però quelli della PNL, a un certo punto, mancavano di sperimentazione, non riuscivano a dimostrare quello che dicevano, ovvero che era tutto un prodotto della nostra mente. E sono stati relegati alle psitoscienze. A Bardenò ha detto, no, io ne sono sicuro, ho fatto un sacco di esperimenti, questi esperimenti non li ha visti nessuno, ma io gli credo. E lui ha capito che c'era anche il complotto degli psichiatri e degli psicanalisti. E quindi a un certo punto, per perseguire la verità, addirittura se n'è andato, si è comprato un bel po' di navi, stava sempre negli oceni, anche per chi vede i soldi c'erano. E quindi si è fatto, lui si faceva chiamare addirittura Commodore, stava in mezzo al mondo, nelle sue navi, a costruire la società, la vera società. Comunque, appunto, il presupposto è proprio questo, Scientology non era una religione, poi ci è diventata per forza, perché sono scoperto alcune cose. Ricordati che adesso ti dico cose che non dovresti sapere se sei pronto, quindi per favore eventualmente chiudi questo video, perché non voglio che poi stai male per colpa mia. Comunque, Scientology è una scienza, è la scienza che poi a un certo punto ha fatto sintesi tra tutte le scienze e tutte le religioni, quindi noi dovremmo, se conoscessimo tutti bene, Scientology, non avrebbero bisogno di altro, cioè, sappiamo tutto, eh. Aspetta un attimo. Prima dice che Scientology è una scienza della mente, perché appunto lui ha capito come curare le malattie, non quelle psiche, tutte, tutte le malattie, tranne il 30%, il 30%, giustamente, cioè, se il corpo non funziona, non è che può fare crescere un braccio a che un braccio non ce l'ha, 30%, il 70%, e lui capisce che come funziona la nostra mente e arriva al concetto di clear, che è quello che fa lì, che ti dicevo, se una persona è clear magari poi ci rimete e non ha più bisogno degli occhiali, funziona più manuttosto, te lo dico velocemente, o per te leggi 500 pagine, questo libro qui praticamente struttura, o meglio, descrive come funziona la nostra mente, non è psicologia, è di più, di più della psicologia, lui dice come funziona il nostro corpo e come funziona la nostra mente, come è divisa la nostra mente e capisce che a un certo punto alcune nostre difficoltà, alcuni nostri disagi sono determinati dai cosiddetti engram, che sono tipo delle piccole cosine, non si sa bene dove, però lui lo sa, che compromettono il nostro funzionamento e però con un colloquio con un'altra persona formata, addestrata, già consapevole, a ritroso si può scoprire dove questi engram sono messi nella cosiddetta luce mente riattiva, non mente analitica razionale, mente riattiva, che creano questo conflitto interno per esperienze passate, non è psicoanalisi, non è psicologia, non è comportamentale, è Scientology, Dianetics, questa è la Bibbia, tutto nasce da qui, e lui praticamente ti dice che alcune esperienze addirittura sono prenatali, cioè prima che tu nasci, poi addirittura scopre che alcune esperienze non le hai vissute neanche in questa vita, ma in vite proprio lontane, ma di 70 milioni di anni fa, comunque, ancora ci arrivi, a un certo punto tu con il tuo auditor, cioè non è il tuo terapeuta, l'auditor, è un maestro, di sento, l'uno che già è andato oltre, lui ti fa rivivere quell'esperienza traumatica, e a un certo punto quell'esperienza traumatica la riconosci, la elabori, e la risolvi, il problema è solo uno, che a un certo punto quando diventi clear, cioè quindi pulito da tutte queste, da tutti questi angle, io ho capito che sei pronto per raggiungere nuovi livelli di consapevolezza, quello che è successo praticamente è questo, e quindi a un certo punto sei pronto a capire perché esistiamo, e quindi sei pronto a sapere quello che ti sto raccontando, adesso per favore, sono serio, se non te la senti stacca questo video, perché poi Hubbard ha scoperto che circa 80 milioni di anni fa, aspetta, non mi ricordo, sì, circa 95 milioni di anni fa praticamente il nostro mondo non era il nostro mondo, ma era una confederazione di pianeti, e praticamente il capo supremo di questa confederazione di pianeti era un certo Xeno, che non era proprio cattivo, però doveva fronteggiare alcuni problemi, e certe volte i problemi devono essere per forza affrontati con un cattiverio, beh, per il nostro bene, e quindi praticamente siccome questa confederazione di pianeti che erano un bel po' di pianeti, e praticamente la popolazione intergalattica era di qualche 150 miliardi di individui, quindi proprio non la nostra terra, tutti i pianeti erano sovrappopolati, e quindi bisognava in qualche modo ripulirli, e quindi lui ha pensato di prendere queste persone che a quanto ho capito si chiamano Tetan, gli alieni, e presente li ha trasportati sulla terra, qui dove abitiamo noi, proprio qui, e li ha fatti esplodere dentro alcuni vulcani, il problema è che queste cose che sono esplose a un certo punto si sono messe dentro forse gli ominidi che abitavano questo pianeta, quindi quelle specie di cose che erano forse poco più che scimmie in questo pianeta, e praticamente siamo noi, cioè noi non siamo noi, non abbiamo un'anima sola, perché questi Tetan praticamente in agglomerati si sono messi dentro di noi, quindi dentro di noi è come se avessimo più anime, cioè non una sola, ma tante, e quindi piano piano salendo il percorso, quindi arrivando praticamente ad alto livello all'interno della comprensione di Scientology, noi scopriamo a uno a uno tutte queste anime che ci sono dentro di noi, e quindi fino a quando arriva quella principale, cioè l'anima principale, e quindi le liberiamo, e liberandole quindi ritorniamo addirittura a ricordare quando Xenu ha fatto tutte queste cose qui, e quindi finalmente siamo sereni, consapevoli, e stiamo bene, ed è quello che alla fine è successo ad Hubbard, forse finora è successo solo a lui, e quindi lui adesso chissà dov'è che ha capito tutte queste cose qui, e quindi magari non lo so se ci possiamo parlare, io appunto non ce li ho un milione di euro, non lo so, però mi piacerebbe saperlo, magari, però questo è quello che ho capito io, non lo so, eventualmente potremmo fare una cosa, mi aiuti a fare crescere questo canale, lasci un like, ti iscrivi, così mi faccio i soldi con YouTube, poi mi iscrivo a Sventology, mi faccio dire tutte le cose, e poi te le racconto gratis, poi te le racconto, iscriviti. 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 iscriviti.